Francesco Conti è ancora al lavoro per le ultime rifiniture e gli ultimi particolari della lancia per la 140esima edizione della Giostra del Sanacino che verrà presentata domani pomeriggio. Ci sono state qualche difficoltà particolare per la realizzazione di questo bozzetto? Sì, abbastanza, soprattutto per il soggetto cui era dedicata la lancia, Dante Alighieri, che non era una cosa così semplice da poter interpretare e poter radunare in una lancia di 3,50 m. i motivi che io ritenevo opportuno poter rappresentare dalla Divina Commedia. Però, come sempre, l'arte riesce a tirar fuori quello che sarà il premio più ambito. Domani ci saranno tutti gli occhi di Arezzo puntati per vedere questa ultima opera. Certamente penso di aver creato un oggetto così particolare, anzi abbastanza ricco, visto come si parla sempre di questi momenti così difficoltosi, invece di dare una semplicità, un'essenzialità, ho ritenuto opportuno dare il massimo e fare quasi l'esagerazione anche nel rappresentare la lancia d'oro.